Nel 2011 gli investimenti diretti della Cina nell'Unione Europea hanno superato i 3 miliardi di euro e secondo un recente studio le imprese del Paese Giallo sono sul punto di dare inizio a una nuova dirompente campagna acquisti che potrebbe vederle arrivare a spendere fino al 2020 una cifra astronomica compresa tra i 250 e i 500 miliardi di dollari. Un interesse strategico legato soprattutto al desiderio di conseguire il controllo delle rotte commerciali del Mediterraneo. In Italia nonostante la maggior parte dell'investitore abbia lasciato il bel Paese in attesa della fine della crisi dell'euro, gli investimenti della Cina e di Hong Kong nel primo semestre 2012 hanno già superato i 500 milioni. Una montagna di denaro che stimola reati come evasione fiscale, frodi doganali, contrabando, contraffazione e riciclaggio. Di aspetti commerciali e dell'importanza della cooperazione internazionale sul fronte dei reati economici e finanziari compiuti dalla criminalità organizzata transnazionale si è parlato a Bari in Cina e Italia economia e società nell'anno del dragone, la conferenza stampa organizzata nell'auditorium della legione allievi della Guardia di Finanza. Sul fronte commerciale va ricordato come la Puglia sia stata la prima e al momento unica regione italiana ad aver istituito nel 2010 un protocollo di intesa con la provincia cinese del Guangdong per consentire alle imprese locali di essere accreditate nell'esportazione. A sottolinearlo durante i lavori è stata la vicepresidente della giunta regionale pugliese Loredana Capone. In un momento di crisi come questo ha spiegato l'accordo con una provincia di 60 milioni di abitanti significa anche dare sfogo al nostro export mettendo insieme le imprese dall'agroalimentare alla green economy fino al turismo ma anche partecipare a fiere ed esposizioni e potenziare i rapporti.